Salvini abbassa i toni. C'è un momento in cui bisogna deporre l'ascia di guerra. Ieri l'incontro. Positivo. Con Zingaretti. Speranza ha vissuto un anno sotto pressione. Non lo invidio. Cercheremo di sostenerlo. Ma non è possibile che ci siano medici che dicono una cosa e altri che dicono l'opposto. Lo ha dichiarato il leader della Lega. Matteo Salvini. Intervenuto a Radio Capital. Aggiungendo come, il CTS è da rimpolpare. Rinforzare con energie nuove e idee nuove. Conosco tanti primari che il Covid non lo commentano in tv ma lo combattono da una corsia di ospedale. C'è un momento, spiega Salvini. In cui bisogna deporre l'ascia di guerra dei partiti. Lavorare insieme e parlare di salute e occupazione. Andiamo oltre alle etichette. Altrimenti non avrei mai votato Draghi il banchiere. Poi. Sulla caratterizzasin delle forze politiche aggiunge. Mica è un insulto europeista. Sovranista. Fascista. Sono categorie superate. Se riusciamo a portare un po' più di Italia in Europa a me le etichette non interessano. L'ex ministro dell'interno si è soffermato in questioni più specifiche. Bisogna parlare del tema delle riaperture. Se uno può andare a pranzo in maniera sicura. Perché non può andarci anche a cena? Ma non commento. Posso commentare la voglia di riaprire di migliaia e migliaia di gestori di bar. Ristoranti. Palestre. Teatri. Cinema. Impianti sportivi. Scuole di danza. Sui tecnici scelti da Draghi. Il leader leghista ammette come. Molti non li conosco. Vorrei incontrare e conoscere Giovannini. E. Vitale sbloccare i cantieri fermi. Di una cosa. Però. È certo. Questo era il modello conte casalino dell'annuncio della domenica sera che entra in vigore il lunedì mattina. Ho modo di pensare che con Draghi. Non appena sarà in carica. Cambieranno alcune situazioni. A partire dal livello di tempistica. La scelta la devi comunicare per tempo. Va bene la salute. Ma dalla sera alla mattina. La comunicazione giorno e notte di virologi. Consulenti. Scienziati che dicono uno e l'opposto dell'altro dovrà cambiare profondamente.